eccoci qua di nuovo in studio con noi c'è il sottosegretario agli esteri maglio di stefano c'è la direttrice della nazione aniese pini intanto grazie sottosegretario per essere qua un certo numero di cose da chiederle sottosegretario che giornatine diciamo allora ieri a bruxelles il vertice nato poi g7 poi il consiglio europeo è ancora in corso quello per discutere di quello che sta succedendo in ucraina di come provare ad agevolare una pace un negoziato e anche in qualche modo come convincere putin a interrompere questa invasione dopodiché sappiamo che in italia in particolare anche nel suo partito ci sono persone che non sono particolarmente convinte della nostra cosa della strategia che si sta usando della strategia che si sta usando come mai intanto diciamoci una cosa qui soltanto putin sa quando questa guerra potrà finire davvero e lo dico per dire che anche l'aspettativa giustamente che tutti noi abbiamo anche quella mediatica su questi vertici è sovradimensionata rispetto alla possibilità concreta di questi vertici finché putin non vorrà seriamente sedersi al tavolo negoziale ok perché noi chiaramente possiamo parlare tra di noi la guerra l'ha avviata lui e lui la sta combattendo sul terreno contro gli ucraini e quindi noi abbiamo alternative oltre al fatto di cercare di favorire un negoziato però come dice lei per fare il negoziato bisogna che putin si decida a farlo per davvero esatto e abbiamo alternative al fatto di dare una mano agli ucraini per difendersi non abbiamo non abbiamo alternative del motivo per il quale nonostante ci sia come per ogni cosa anche più domestica una un dibattito parlamentare molto acceso il governo ha preso questa strada e modo molto convinto e tutti i membri di governo che sono praticamente di tutti i partiti tranne fratelli d'italia e sono d'accordo su questa strada presa ok perché va ricordato e lo dico a favore di ascoltatori e qui non siamo in una questione dove puoi dire io sono neutrale essere neutrale quando c'è un aggressore non aggredito significa fare le parti dell'aggressore e non si possono fare tra l'altro parti uguali tra disuguali qui c'è un paese che attacca con una potenza bellica incredibile forse dovremmo dire anche meno incredibile di quando sembrava prima di questa guerra al momento sembrerebbe essere meno incredibile e dall'altra parte c'è un popolo che se non avessimo aiutato sarebbe stato semplicemente sterminato e allora però mi perdoni sottosegretario la commissione esteri è una commissione importante certo che lo è il presidente della commissione esteri di palazzo madama e vito petrocelli il quale non ha votato insieme al resto della maggioranza che invece ha votato compattamente a favore dell'invio delle armi in ucraina e allora verrebbe naturale dire benissimo lasciasse il suo posto si deve dimettere io credo che sicuramente lui debba riflettere sul suo ruolo perché chiaramente una non votare una una norma non tipo non può mai diciamo costare l'incarico a un parlamentare che tende andremo a violare i propri principi base della nostra costituzione però dipende da che cosa fai è chiaro che nel momento in cui però questo suo atteggiamento sulla sulla norma specifica dovesse riverberarsi su tutta la sua azione di presidente della commissione che deve garantire imparzialità l'ascolto delle opposizioni della maggioranza e quindi essere neutrale chiaramente questo sarebbe molto complicato lui ha garantito che questo non succederà ad oggi gli altri parlamentari con i quali si sta confrontando delle altre forze politiche intendo chiaramente perché non è una questione questa del movimento 5 stelle lui è del movimento 5 stelle ma lui deve garantire questo ruolo verso gli altri partiti non verso il movimento 5 stelle soltanto no ma infatti gli altri partiti si sono già espressi per esempio il PD Letto ha detto segretario del partito democratico ha detto che si deve dimettere anche se so anche se so che in questi ultimi giorni le cose si stanno un pochettino sistemando detto ciò io credo che lui in realtà lo debba a tutti noi e anche al suo ministro del partito suo che è Di Maio se non si trova bene in un posto in cui gli è chiesto una continuità di azione insieme al governo è che siamo in una situazione dove c'è una guerra in corso non possiamo fare giochetti tra governo e parlamento e allora credo che questo debba portarlo probabilmente a lasciare quell'incarico però certamente non lo possiamo forzare perché non è neanche nei requisiti nelle caratteristiche del rapporto governo parlamento poter chiedere potergli imporre o di lasciare la presidenza questo vorrei che fosse chiaro cioè si passa sono dei passaggi di tutela degli organi istituzionali chiaramente quindi non si può fare che voi lo obblighiate però per esempio lo potete espellere dal movimento e questo comunque non gli farebbe perdere la presidenza e il presidente Conte su questo sono molto chiaro ha detto qualora non dovesse votare una fiducia al governo che come in altri casi da noi è costata l'espulsione dal gruppo anche per lui funzionerà in questa maniera e qui diciamo veniamo alla questione perché da una parte c'è armiamo gli ucraini perché si difendano e lì Di Stefano ci ha detto con chiarezza qual è la sua posizione che mi pare sia anche la posizione maggioritaria nel Movimento 5 Stelle poi però c'è la questione del riarmo italiano ricordiamolo si parla di un riarmo fino al 2 per cento del pil giusto arrivare a 40 miliardi quindi aumentare la cifra che tutti gli anni l'italia spende per armarsi e qui si sono aperti una serie di distinguo di qui secondo me va inquadrato bene la questione intanto noi non anche questa grande butade parlamentare sulla presentazione di ordini del giorno a favore o contro questo tema lascia il tempo che trova perché l'italia facendo parte della nato come membro ha un obbligo contrattuale virgoletto ma la butata chi si riferisce perché siete voi del Movimento 5 Stelle che avete parlato dell'ordine del giorno no però l'ordine del giorno è presentato la Fratelli d'Italia cioè c'è la classica però voi avete annunciato che presentavate l'ordine del giorno però quello già votato non è quello del Movimento 5 Stelle quello famoso alla Camera dei Deputati quello già votato è un altro però voi avete annunciato che avreste fatto un'ordine del giorno per non aumentare le spese cosa sto dicendo infatti che in Parlamento a ogni occasione non vale a prescindere da questo c'è sempre chiaramente il partito dell'opposizione con l'immaggioranza che cercano di farsi le scarpe semplifico ci siamo l'italia non ha il motivo di avere un ordine del giorno o una norma nuova per portare le spese di difesa al 2 per cento del pila perché abbiamo un obbligo facendo parte della nato per farlo motivo il quale tutti i governi ad oggi hanno a poco a poco aumentato le spese in difesa perché noi investiamo l'1 e 2 per cento di pila dovremmo arrivare al 2 per cento trump obama stesso biden tutti ci chiedono questo perché ad oggi la nato di fatto è sovvenzionata dagli stati uniti in larghissima parte scusi sottosegretario ma lei questa cosa che l'ha spiegata a conte sì no infatti sto arrivando conte dice una cosa infatti infatti il punto è questo conte dice una cosa che non si distacca neanche da questa realtà in vero anche perché era presidente e lui stesso ha messo soldi sulla difesa lui dice che siccome questa prospettiva del 2 per cento nato è una prospettiva che abbiamo sempre avuto di dover arrivare al 2 per cento come non siamo arrivati al 2 per cento nei dieci anni precedenti dove non avevamo una pandemia una crisi in corso è una crisi una bellica in corso certamente non ci possiamo arrivare oggi che abbiamo da mettere soldi sull'economia nazionale sul caro bolletto e quant'altro quindi lui sta dicendo non che non dobbiamo aumentare le spese della della difesa ma che non è il momento di aumentare il momento perché dal 2 per cento al 2 per cento sono bei soldi ma aggiungo una cosa che è un po quello che mette d'accordo tutti di maio in primis che l'ho ripetito più volte è del nostro ministro degli esteri in questo momento e noi abbiamo un progetto ben più ambizioso come europa che la difesa comune europea perché lo sottolineo perché se noi decidiamo tutta l'europa che il futuro è soltanto la nato e allora facciamo bene a guardare un orizzonte di lungo periodo fino a investimenti al 2 per cento di più sulla nato ma se il nostro futuro è la difesa comune europea che una una cosa in più rispetto alla nato dobbiamo rivedere interamente il pacchetto di cose perché certamente non possiamo mettere 50 miliardi di 50 miliardi di là ma noi entro quanto tempo dovremmo arrivare al 2 per cento è un accordo di per pestare dentro la nato è come se vogliamo cambiare da una patta all'altra c'è una data c'è un termine dentro il quale dobbiamo arrivare al 2 per cento non c'è un termine questo vale per tutti gli organismi ne faccio un esempio l'italia dovrebbe arrivare all'1.2 per cento di più no no però siccome ieri draghi lo ha ribadito e lo ha ribadito in un consesso direi è irrilevante no quindi a meno che non pensiamo che che draghi è andato lì a vendere chiacchiere draghi è andato lì ha detto noi faremo questa cosa e la faremo il che il che il che sì cioè non penso che tra chi sia andato lì a dire la faremo prima o poi ha detto la stiamo facendo ribadisco che la farla vuol dire che tu devi portare in parlamento una modifica all'interno del def quindi al documento di economia e finanza dove aumenti le spese in difesa quindi sono dei passaggi cioè lei che ha capito che ieri draghi voleva dire questo o voleva dire semplicemente lo faremo tanto per non è che devo fare le seggesi del pensiero di draghi ma questi sono i passaggi obbligatori parlamentari non lo spieghi a noi però quello sto dicendo infatti i passaggi parlamentari prevedono che dall'accordo politico che la parola di draghi con stoltenberg in questo caso in particolare all'attuazione di questa cosa si passa attraverso i passaggi parlamentari il def e quant'altro che è sempre stata così infatti per quello che parlavo prima di una buttata benissimo quindi se arriva il def e draghi le cose che ha detto a stoltenberg le vuole oggettivamente fare succede che voi votate contro questo poi è il punto qui dobbiamo arrivare il punto è che non si può parlare con i secondi ma perché come ci arrivi in che tempistiche ci arriva la differenza dicevo prima conte da presidente ha aumentato anche lui le spese nella difesa con una visione chiaramente di un periodo ho capito siccome in questo giorno sempre di linea rossa voglio essere chiaro non arriverà draghi e dice domani abbiamo domani mettiamo 20 miliardi nella difesa questo non può succedere dal mio punto di vista e quindi il problema non sussiste perché lo parlavo di una butad prima bene ma allora se il problema non sussiste perché ponte perché conte alzato questo polverone qui chiedo aiuto a danese pini perché delle due luna o il problema esiste e allora conte vuole scongiurare un tema perché esiste oppure il problema non esiste non si capisce perché conte alza questo polverone in un momento come questo nel quale ci abbiamo un attimo la guerra vuole dare un messaggio molto chiaro ancora il covid sì ma adesso perché adesso non c'è bisogno di spaccare il parlamento su questo tema molto semplicemente quindi evitiamo di metterci in questo in questo stato confusionale che quindi pensa che potrà succedere prego agnese potrebbe chiaro su questo punto io voglio dire che di stefano si è espresso in maniera non chiara chiarissima rispetto a putin la sua è stata una posizione di netta condanna anche oggi qui quando ha iniziato a parlare di questo c'è uno che attacca e uno che subisce l'attacco dopodiché non sfugge a nessuno quello che dice agnese pini che insomma non avete avuto sempre quest'idea e soprattutto non le chiedo nemmeno quando è che ha capito che putin era una brutta persona perché evidentemente anche lei ha cambiato idea no ma no però questo vorrei essere chiaro io ho parlato come tutto il movimento 5 stelle anche il racconto del governo giallo dei due del governo giallo verde vicino alla russia cosa vuol dire per un governo di un paese che ha il 40 per cento di dipendenza dalla russia essere a favore della russia ne facciamo accordi commerciali con la russia che ci hanno garantito una indipendenza energetica in questi anni così come li facciamo con gli stati uniti è il nostro primo partner commerciale sono gli stati uniti il nostro secondo è l'unione europea allora siamo siamo grandi amici non è che ci faceva simpatia semplicemente bene bene che vuol dire però mi perdoni no è in particolare senatrice granato fermo la senatrice granato putin conduce una battaglia per tutti noi stessa senatrice invitiamo putin per par condicio a parlare nel parlamento italiano e qua mi deve dire che che senso ha infatti non ha mai avuto 5 stelle ex movimento 5 stelle non ha mai avuto un ruolo nel movimento 5 stelle se non purtroppo mi viene da dire a questo punto essere un senatore ma di senatori e deputati che dicono emerite sciocchezze purtroppo ne siamo pieni non soltanto il movimento 5 stelle ma tutti i partiti e le voglisse come però le mi ha citato io vorrei dire una cosa io non ho mai mai parlato del conflitto russo ucraino dicendo che putin era uno statista io ho detto nel 2016 e lo rivendico dato perché è quello che sta succedendo che se la politica avesse fosse stata più saggia e non avessimo spinto la nato o meglio le richieste di attenzione alla nato perché funziona così meccanismo così tanto ad est oggi non avremmo questa tensione l'avremmo potuta risolvere politicamente oggi sta verificando quello che io dissi all'epoca e indietro questa frase un po' come la cos'è che c'è in questi giorni di orsini no dietro questa frase non c'è un giustificare quello che sta accadendo c'è un analizzarne le ragioni storiche sì io credo che noi possiamo analizzare le ragioni storiche condannando quello che sta succedendo ci mancherebbe altro dopodiché poi c'è momento e momento ci sono dei momenti in cui non cioè oggi no a proposito del fatto che tutti adesso stiamo qui a ragionare e nel frattempo stanno cadendo le bombe infatti il mondo per me si divide nel 24 febbraio prima e dopo grazie all'onorevole di stefano grazie davvero grazie ad agnese pili andiamo in pubblicità ci vediamo tra pochissimo grazie a tutti